polemiche singolari rituali parole in libertà e come dire segnali in codice nel contenzioso che oppone il consorzio copcasa l'amministrazione comunale di foggia una vicenda che viene da lontano e che sta dentro il tema dei temi di questa città il tema dell'urbanistica contrattata di cui abbiamo detto scritto in mille circostanze cioè il tema dello scambio tra portatori di interessi privati e pubblica amministrazione gli interessi privati cioè il mattone che volevano realizzare questo quell'intervento edilizio e l'amministrazione che aveva come contropartita il polmone verde l'infrastruttura la piscina o le case popolari la natura dello scambio è stata assolutamente imperfetta diseguare come abbiamo raccontato in questi vent'anni nel senso che i privati hanno portato a termine i loro progetti i loro obiettivi ma poco e male hanno dato poi alla collettività è la storia degli ultimi vent'anni di urbanistica contrattata a foggia è la storia di uno scambio diseguare è la storia di un ceto politico sostanzialmente funzionale equivalente fungibile di destra o di sinistra rispetto agli interessi forti al potere forte del mattone perché allora spunta fuori questa storia perché perché mai nessuna parte politica in questi vent'anni ha fatto un censimento una ricognizione una verifica dello stato della come dire dello scambio cioè abbia detto ok cari privati che cosa ci avete dato che cosa abbiamo ottenuto e dove si sono fermate queste verifiche perché a un certo punto le tecnostrutture le dirigenze di palazzo di città non sono mai andate oltre perché a un certo punto questo scambio non è stato appunto monitorato verificato il punto vero è questo e ci sono le responsabilità di tutto un ceto politico di tutto del compresso dei decisori pubblici funzionare a quegli interessi dominanti e oggi da lontano viene questa storia questo contenzioso che si trascina appunto da sempre e singolare in una campagna elettorale in cui come abbiamo detto i candidati sindaci che coalizioni sembrano in realtà lavorare sui rispettivi obiettivi e sembrano lontanissime da qualsivoglia idea di confronto anche scontro sulle cose da fare sulle visioni sui progetti ma il mattone sempre lì l'eterno rimosso il fantasma di questa città grazie alla prossima